Aldo De Benedittis, candidato sindaco del centrodestra per Campobasso, ormai ci siamo, ultimo appello al voto per i cittadini che staranno chiamati di nuovo alle urne, perché confermare a lei la fiducia e far cambiare strada a Campobasso? Ma perché noi innanzitutto abbiamo una maggioranza in consiglio comunale, questo è il risultato delle urne, io ho avuto il 48% circa, quindi un cittadino su due mi ha dato la fiducia e gli altri hanno avuto il 32, il 20, il 19, quindi abbiamo una maggioranza nella nostra città, se vogliamo cambiare dovete votare me, se invece vogliamo che le cose rimangano come stanno adesso dovete votare il centro sinistro. Mi fermavano, mi davano la mano, tutti contenti, speriamo che riusciamo a confermare questo successo che abbiamo avuto, noi oggi siamo in maggioranza al comune di Campobasso.